Continua a provare le frequenze e non fermarti finché non ci riesci, ok? Briggs, notizie della nave dirottata? Le comunicazioni con l'esterno sono oscurate. Non possiamo comunicare, ma ci stiamo lavorando. Charlie. Il virus. So da dove viene. È stato eseguito quando abbiamo analizzato il tablet preso da Sam. È impossibile, il sistema... Ho bypassato alcuni protocolli di sicurezza. Volevo ottimizzare la velocità operativa. Gli hai fatto infettare il sistema? Così ci hanno trovato in Messico. No, non così. Mentre eravamo a terra, ho contattato un ex socio del cartello. Gli ingegneri hanno messo una taglia su di noi. Deve avermi venduto in cambio di una fetta. Charlie, perché non... Ci siamo! L'attacco benzina americana è riuscito. Ecco perché hanno attivato la continuità di governo. E qual era il bersaglio? Scusa, Sam. Siamo sommersi dai dati. Ecco. Si direbbe Louisiana. Sabine Pass. Una raffineria. No, mio Dio. Sabine Pass. È la più grande raffineria della costa del Golfo. Hanno colpito l'impianto con un virus prima dell'impatto con la nave. In questo modo tutti i sistemi di sicurezza erano disattivati. Il virus opera esattamente come quello che ha infettato l'aereo. Oh, merda. Sono riusciti a infettare tutti gli impianti della costa. Se riesce a diffondersi. Salteranno uno dopo l'altro. Ci avviciniamo al salto, Sam. Pronto? Il pilota scende di quota. Velocità ridotta. E tre... Due... Uno... Via, via, via! Grim, Sam è andato. Ricevuto. Iniziamo. Grim, sono a terra. Vado verso l'elicottero battuto. Sam, sembra che i fili siano sotto attacco. Ingegneri? Affermativo, sono bloccati. Non so per quanto resisteranno. Alleato! Blade! Chaos! Come conosci la risposta? Se non hai intenzione di spararmi, non buttarmi la mano. Vi voglio aiutarmi. Non ci serve il tuo aiuto. Da dove arrivi? Io non esisto. Vi hanno detto di prendere l'impianto? Ci hanno mandati per fermare la petroliera, ma era tardi. Siamo arrivati dopo lo schianto e abbiamo inseguito una squadra. Avevamo quasi il leader. Poi è andato tutto a puttane. Grim, abbiamo un ingegnere VIP in questo tempo. Dammi una posizione. Dove sono i ritori? I'm in there. Continua a dirigerti verso l'edificio principale, Sam. Settiamo una sparatoria nel terminal, Sam. Ti consiglio di andare lì. Heads up! Slow down! Non abbiamo tempo, devi proseguire. Sam, attaccano la squadra di intervento. Mi muovo. Grim, trovami il capo degli ingegneri. Perfetta che posso. Integro. Piatri e fissure. Piatri e fissure pianoschi. Integro. 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 Adesso. Quindi, Vedo molti nemici davanti a te Sam, quella sezione dell'impianto è un labirinto Sfruttare il tuo vantaggio Come sempre Sfruttare il tuo vantaggio Come stanno, il signor? Attendono i medici, non ti fermare Dammi dei riferimenti, che le vuoi Davanti hai la stazione dei pompieri La squadra di intervento è bloccata lì fuori All personnel must reach minimum safe distance from storage areas within two minutes What the hell are you doing here? He's gonna die! Just leave him here! He's already dead These quarters are to take out the first responders Now get you all vaccinated Listen, I can't just I said move, now! Whoa! Danger, pipeline temperature reaching critical levels Danger, danger Perito, qualcuno venga qui! Danger, danger Perito, qualcuno venga qui! Perito, qualcuno venga qui! Warning, departure on storage tanks have reached dangerous levels All personnel evacuati. Evacuati. L'area intorno alla stazione è libera. Tu? Sto ancora cercando il loro capo. Tienimi aggiornato. Capitano, tutto a posto. I suoi possono tornare al lavoro. Grazie per l'aiuto. Dovremmo riuscire a evacuare tutti. Dobbiamo riuscire a fermare l'incendio. Il condotto principale deposita direttamente sulle fiamme. Si diffonderà nel tubo e poi boom! Tanto vale pisciare controveni. Come se la cava? Ricevuto, Sam. Dobbiamo tirarti fuori. No, aspetta. Se trovi un terminale posso far saltare il virus, ripulire il sistema. Capitano, dov'è la sala comandi? Ultimo piano del terminal. Ma è troppo pericoloso. Me la caverò, non sono solo. Buona fortuna, Capitano. Se a qualcuno serve fortuna, quello è lei. Se riesci ad arrivare al terminal, Sam, Charlie può interrompere il flusso di gas. C- Так. irosi ultimo, ultimi una spetta blocaggiamo la best Sam, sono riuscito ad entrare nel canale di comunicazione degli Ingegneri. Vuoi sentire? Mi sento. Preparso! L'impresione è ok. Ma io che passiate la sala a prestire, ritmi non è sopravvissuti. Anche aperti. Sono arrivato a te. Ottimo, la sala comandi all'ultimo piano. Faglio una porta sulla strada rialzata. Aiuto insieme alla mia zona di riuscione. Cosa è stato sereno? Non abbiamo messo la stagione di compieri. I compieri sono armati. I compieri sono armati, i viscili. Divide la posizione, lo vediamo. Non fate vantare nessuno. Scusate, sono nella sala comandi. Collega all'OPSAT al terminale principale, così accederemo a remoto dagli MS. Un attimo. Sì, eccolo, ce l'ho. Ce l'hai fatta, certo. Ho controllo su tutto. Luci, porte, fit video. Ehi. Forse ho trovato il leader. Si è travestito da paramedico. Ti invio la posizione. Mi muovo. Apro una porta, è il modo più rapido per trovarlo. Occhi aperti lassù. Gli ingegneri sanno che siamo qui. Ti copriamo. Ricevuto, Sam. Ehi, i comandi del caso sono tornati. Bloccate quest'aria. Cosa succede? Mane rapporto. Ti stanno riprendendo l'impianto. Ehi, i comandi del caso sono tornati. Bloccate quest'aria. Cosa succede? Mane rapporto. Ti stanno riprendendo l'impianto. Voglio rapporto sulla situazione. Non possiamo resistere a lungo. Fuoco presente. Ma qualcuno mi scelta. Cosa state facendo là fuori? E' caduto da lì. Scendi al pieno terra, se puoi, Sam. Sei proprio sopra il leader. Merda! I sistemi si sono riattivati. Devono aver ripreso l'impianto. Sigillate tutta l'aria. Attenti a esti. Aggiornatemi costantemente. Via! Dovresti vedere il leader ora, Sam. Dove? Di nuovo. Sta cercando di scappare. Vado a prenderlo. Non fai a Sam nessuna. Sam, posso chiudere il campione davanti a te e bloccare il pioniere? Falla! Scusa, Sam. Lo posso riaprire, ma ci vuole un po'. Proverò un altro modo. Un solo in giro di me. Non face lo passare. Non face lo passare. Non face lo passare. Charlie, mi serve che... Fatto. Non face lo passare. Non face lo passare. E' fuori di cogliettora! Scampano su un'ambulanza. Rinfrazzali con il drone. Un attimo, aspetta, avrò il cancello. Aiutami! Prima tu. Il piano di Sadik. Parla. E' troppo tardi. Cosa avete fatto? E' il vostro presidente. Gli ha consegnato i vostri su un piatto d'argento. Denver. E' il bunker. Sadik era lì ad aspettarli. E' finita. No, no! Abbiamo raggiunto la Colwell. Ci stiamo provando. La squadra SEAL sta bene. Saremo in volo tra 20 minuti appena finiti i rifornimenti. Ehi, grazie per l'aiuto laggiù. Di niente. Hai un minuto? E' urgente. Niente di importante. Parliamo dopo. Grim, il virus in Messico. Devo dirglielo. No, non devi. Ma ho sbagliato. Tu dici? Perché mi copri allora? Perché dovresti volermi ancora qui? Infatti non ti volevo. Grazie. Tu me l'hai chiesto. Non ascolti nessuno, credi di sapere tutto. Lavori come se tutto fosse un gioco. Hai finito? Ho appena cominciato. Sai che cosa mi dà più fastidio di te? Che sei bravo nel tuo lavoro. L'unica cosa che può difendere il mondo da Sadiq è questa squadra. Non posso permettere che Sam ti butti fuori. Mi dispiace. E allora cerca di farti perdonare.